Adesso io ho un problema perché sono molto affezionato a professor Minazzi con cui abbiamo fatto tante battaglie in difesa della libertà della scienza e quindi sono particolarmente benevolente nei suoi confronti ma devo essere invece equanime e allora gli pongo soltanto una domanda iniziale poi può fare lui quello che vuole. Nella battaglia che abbiamo fatto per circa due anni ho avuto accanto in particolare il professor Pregliasco del San Raffaele, un virologo, e il famoso professor Burioni che ha fatto un lavoro eccelso tranne il sottotitolo che ha fatto mettere a uno dei suoi libri e cioè che la scienza non è democratica. Allora è stata secondo me un'affermazione controproducente, sbagliata dal punto di vista epistemologico, adesso me lo dice lei. Secondo me bastava dire la scienza è un metodo, se tu mi vieni a portare delle evidenze sperimentali io accetto la tua contradduzione o la tua critica, se tu invece esprimi solo un parere come se stessimo parlando di come ha giocato il Milan allora no, però è stato un po' troppo apodittico. Dimmi te cosa ne pensi professore. Intanto volevo ringraziare il professor Accolla per questa opportunità. Sono l'ultimo a intervenire ma sono anche con spirito evangelico. No ci sto pure io a capire, lasciami cinque minuti per favore, abbiamo ancora mezz'ora. Siamo in buona compagnia. E poi volevo dare solo un'osservazione perché io ho sposto un po' l'asse della riflessione, nel senso è una riflessione filosofica e la filosofia ha un grande vantaggio perché c'è un proverbio lombardo che dice cos'è la filosofia quella cosa con la quale senza la quale tutto rimane tale e quale. Quindi questo è un grosso vantaggio perché ci permette di guardare e di riflettere come se fossimo sul pianeta di Marte, guardare appunto una situazione da lontano. Ora qui nella nostra università di dieci anni che sviluppiamo un progetto di interazione diretta con le scuole elementari, secondari e inferiori, secondari e superiori, liceali, di tutti gli ordini. Allora vorrei darvi, perché bisogna rispondere a una domanda, perché c'è stata questa ondata di contro i vaccini, ma questo poi si lega anche a tante altre cose. Allora se noi entriamo, bisogna sempre tenere i piedi per terra, anche se ve lo dice un filosofo, bisogna stare legati alla realtà. Se voi entrate in una scuola e assistete a quelle che sono le assemblee scolastiche, avete un'indicazione che già chiarisce. Come si svolge un'assemblea scolastica? Beh ci sono posizioni diverse, noi siamo democratici e lasciamo che ognuno esponga le posizioni diverse e questo è il massimo che possiamo ottenere. Questa è già una cultura. Se volete salire a livello più alto e quindi alla meta riflessione quella che le culture hanno prodotto in questi ultimi decenni, questo ha un nome e si chiama la cultura del postmoderno. In realtà questa posizione, cioè ognuno deve esprimere la sua opinione e queste opinioni stanno sullo stesso piano, è qualcosa che avrebbe rappresentato un trionfo della tradizione che c'era già nel V secolo a.C. in Grecia, dei sofisti. Non esiste conoscenza, esistono solo opinioni. Le conoscenze non sono tali, sono solo opinioni che sono condivise da un maggior numero di persone. Questo in termini di meta riflessione è stato presentato come la stagione del postmoderno che prende spunto da una battuta di un autore che è il più venduto in tutto il novecento, è Nice, il quale dice non esistono fatti, esistono solo interpretazioni. Tutto quello a cui abbiamo assistito oggi è invece una presentazione a mitraglia per i tempi stretti di fatti. Questo è il nostro problema. La nostra cultura oggi, quella più diffusa a livello popolare, è questa. Non esistono fatti, esistono solo interpretazioni. E allora bisogna riflettere su questo aspetto. Per farlo dobbiamo tenere presente che noi siamo nel 2019, ma questo essere nel 2019 è inserito nella tradizione che è la tradizione occidentale. E allora il mio suggerimento è di guardare a questa tradizione in tutta la sua articolazione. Possiamo farlo qui da noi, perché nella nostra università è conservato il fondo archivistico intero di una testa pensante italiano, filosofo italiano, noto anche all'estero, che era Giulio Preti, che ha riflettuto a lungo su questi problemi. E ha scritto un libro 50 anni fa, che noi abbiamo ripubblicato proprio in occasione del cinquantenario, questo libro, Rhetorica e logica, le due culture. Già, se voi riflettete sul titolo, entrate ancora una volta nel mondo della prassi. Perché le due culture, l'impostazione della formazione in Italia, dalle scuole primarie fino all'università compresa, rispetta proprio questa situazione di due culture. E allora, tutti noi abbiamo avuto una formazione scolastica, e allora vi faccio una domanda, in cosa si distinguono le due culture? E sappiamo che queste due culture sono trasmesse alla nostra scuola sulla base di una grande riforma, che è stata fatta da uno dei più grandi filosofi che l'Italia ha avuto nel Novecento, Giovanni Gentile, aveva solo un difetto di essere fascista, ma a parte quel difetto era un grande filosofo. E su cosa si basa la trasmissione delle due culture? Questa è una domanda che io pongo a voi. Quando si studia italiano, storia, filosofia, una disciplina umanistica, si studia nello stesso modo in cui si studia matematica, fisica, biologia, astronomia? E nel caso a voi mi concediate si studia nel modo diverso. Dove sta la differenza tra lo studio? Perché voi volete vedere se io so rispondere, vi rispondo subito. Una distinzione metodologica. E qual è questa distinzione metodologica? Che, diciamo così, la nostra popolazione beve con latte di propria madre, e tutti noi l'abbiamo bevuta. L'idea di fondo è questa, che se io devo parlare dell'infinito di Leopardi, ah beh, devo sapere chi era Leopardi, in che mondo è vissuto, qual è il contesto e quali sono le principali interpretazioni, ad esempio, dell'infinito. Ma se io devo parlare della risoluzione dell'equazione di secondo grado, dei differenziali, di integrali, non mi frega nulla sapere chi li ha inventati, in che contesto storico e, cosa dici, una diversa interpretazione di questo algoritmo, no? Perché esiste un algoritmo. Come tutti noi abbiamo studiato le equazioni. come se le hanno insegnate. Hanno fatto alla lavagna un'equazione, hanno scritto la formula risolutiva, hanno fatto vedere come si applicava e poi ci hanno esercitato. Questo anche l'università, io ho fatto analisi 1, analisi 2, mi sono chiuso in casa per sei mesi e ho fatto esercizi e esercizi, perché se no non si superava l'esame. Domanda, cosa va perso in questo modo di trasmettere la matematica? È la stessa cosa per la fisica. Il pensiero matematico è cancellato, perché io ho un algoritmo e devo imparare solo ad applicarlo. Allora abbiamo un paradosso. Il modo diverso in cui si studiano le due culture, le due discipline, cancella, per la dimensione scientifica, ciò di cui vive la scienza. Cioè che cosa? Il proprio sapere critico, la possibilità di mettere in discussione ciò che ci ha trasmesso. 1859, 1000, quindi un positivista in un saggio che è sempre eletto per motivi politici, ma è interessante dal punto di vista politico, On Liberty. Cosa ci dice? Su quale base colui il quale entra in una classe e insegna, può insegnare? La domanda decisiva, sia per il docente, sia per uno studente. E la risposta è straordinaria. Io posso insegnare quello che insegno, perché sull'argomento che insegno non ho niente di migliore da insegnare. Ma se voi lo leggete in termini positivi, il non avere niente di migliore, cosa vuol dire? Invitare chi studia a trovare argomentazioni migliori. E qui siamo al cuore della scienza, il metodo della scienza. La scienza non ha alcuna autorità. Non è vero quello che è stato proiettato qui, perché l'ha detto il professore Accollo, l'ha detto l'altro professore. E neanche la teoria della relatività è vera, perché l'ha detta Einstein. Quelle teorie sono argomentazioni basate su argomentazioni, rispetto alle quali non abbiamo trovato allo stato attuale argomentazioni migliore. Ma la storia della scienza ci insegna proprio questo, che non esiste il risultato scientifico e non possa essere migliorato. E quindi sottoposto a critica, come diceva Einstein rispetto a Newton. Scusa Newton, ma io devo andare oltre la tua teoria fisica. Questo aspetto è decisivo perché mette al cuore della scienza, dell'atteggiamento scientifico, la criticità. La scienza non si basa sull'autorità, non si basa sui dogmi, si basa sul fatto di trovare argomentazioni più convincenti, migliori. Il che aprirebbe una riflessione enorme perché questo aggettivo molto modesto, migliore, è qualcosa che connota anche tutte le procedure tecnologiche. Ma qui chiudo la parentesi. Di contro abbiamo l'altra cultura. L'altra cultura invece, proprio perché è presentata come... L'antitesi è giocata su logica e retorica perché se la logica è l'espressione della cultura scientifica basata sulle argomentazioni, la cultura retorica invece è basata sull'autorità. Sono problemi già affrontati nel 1623 da Galileo nel Saggiatore, un libro mirabile, dove Galileo se la prende proprio con questo aspetto. Non si può sostenere una certa tesi perché è stata proclamata da un classico o da un autore che noi veneriamo. Noi dobbiamo andare a vedere l'argomentazione. E allora le due culture si caratterizzano per i seguenti elementi. Questo discorso, attenzione, è un discorso che non è sempre stato sviluppato perché negli anni 60 fu pubblicato da un fisico, Snow, le due culture, un libro che abbia una fortuna straordinaria, che però dal punto di vista del discorso che stiamo facendo è completamente sbagliato perché Snow analizza le due culture andando a vedere le comunità degli scienziati e la comunità degli umanisti. È sbagliato. Noi dobbiamo capire le strutture formali di una cultura. E allora in che cosa si distinguono? Ogni cultura è data da una diversa gerarchia di valori. Ogni cultura si basa su un discorso perché ogni cultura è discorso, è produzione di discorsi e centrale per ogni cultura è la nozione di verità. E allora la distinzione tra questi due tipi di cultura, questo è il suggerimento di preti, è che abbiamo di fronte due tipi di discorso. Cultura retorica, un discorso persuasivo con riferimenti pragmatici e quindi emotivo valutativi, sentimentali, miranti a stabilire un'adesione tra i partecipanti al discorso. Se io vado a sentire un comizio di un politico, non mi aspetto che svolga delle argomentazioni conoscitive, ma certamente vuole suscitare nei suoi ascoltatori un'adesione per le proprie tesi. Tutti i talk show che assistiamo sono basati su questo tipo di discorso. Il discorso scientifico invece è un discorso probativo e dimostrativo, avente per scopo la verità, oggettivo, razionale, non immediatamente pragmatico e non portante su valori, bensì su fatti, di qualsiasi ordine realtà. Questo è un problema da far capire. Quando il ministro Gelmini disse a cosa servono certe ricerche, qual è la loro utilità, dimostrava in non aver capito questo aspetto. La storia e scienza li ha dimostrarlo. Tanto più una ricerca è apparentemente inutile, tanto più è ricca di conseguenze positive che ha cambiato radicalmente la storia dell'umanità. Un solo esempio tratto alla matematica, il calcolo tensoriale. Quando Levi Civita lo sviluppava, diceva ma cosa servono questi calcoli? Senza il calcolo tensoriale la teoria e la relatività non può essere costruita. Einstein è venuto a Padova per imparare l'uso del calcolo tensoriale. Se ci fosse stata la Gelmini allora avrebbe tolto lo stipendio al povero Levi Civita e Einstein sarebbe stato in difficoltà. Ogni cultura possiede una propria formalità, cioè una struttura specifica. La forma della cultura letteraria è la retorica, la forma della cultura scientifica è la logica. Retorica, autorità, logica, argomentazione. Il discorso retorico si svolge a un concreto preciso uditorio che è sempre perciò stesso parziale. Il discorso logico mira per sua natura a un uditorio, a temporare un uditorio tendenzialmente universale. Una sola citazione da un autore a cui noi dobbiamo moltissimo, Kant, fiore dell'illuminismo, il quale dice quando la credenza è valida per chiunque in quanto ragionevole, il suo fondamento è obiettivamente sufficiente e la credenza si chiama convinzione. Se invece il suo fondamento soltanto è una qualità particolare al soggetto, si chiama persuasione. Questo cosa vuol dire? E qui vado alle conclusioni così soddisfa anche la mancanza di tempo. Vuol dire che abbiamo di fronte due modelli di conoscenza rispetto alle quali non prendono la distanza critica. Tecnicamente si parte da Kant, ma adesso lasciamo perdere Kant. Ho detto, nelle scuole vige il relativismo sofistico, è la mentalità comune, non si possono discriminare tra l'opinione. La reazione naturale a questo dominio dell'opinione in quanto tale è il difendere una verità che si presenta invece come l'unica verità assoluta. Ecco le due polarità. La storia della scienza ci dice che per la conoscenza scientifica non vale né l'una né l'altra, vale una posizione diversa. In termini tecnici oggi il problema più discusso a livello mondiale dagli epistemologi è di che natura è la conoscenza scientifica? La risposta in genere è una conoscenza di tipo oggettivo. Ma cosa vuol dire oggettivo? Vuol dire che è una conoscenza che si istituisce dentro un ambito circoscritto, specifico. Ogni disciplina ha questa caratteristica. Se io mi scrivo a medicino, mi scrivo a fisico, mi scrivo a biologia, la prima cosa che devo fare qual è? È imparare il linguaggio, i termini di quella disciplina, perché se non posseguo quei termini non entro nella disciplina, perché ogni disciplina è un discorso. Quindi il primo gesto che fa una disciplina è circoscrivere il proprio ambito, recingerlo, limitarlo. Dentro quell'ambito, l'ambizione della conoscenza scientifica è di poter fare un discorso che colga la realtà di quell'ambito. Citazione dall'organo di Aristotele, che però è preziosa. Dire di ciò che è e dire di ciò che non è, che non è, è vero. Dire di ciò che è, che non è, e di ciò che non è, che è, è falso. Questa è la famosa definizione che poi formalizza Taschi, la cosetta concezione corrispondentista. Ma questo ci dice un aspetto importante. Ciò a cui mira la conoscenza, qualunque tipo di conoscenza, attraverso l'individuazione dei fatti, è di cogliere la realtà. E ci chiediamo qual è la realtà? Tutta la realtà. Inevitabilmente no, perché ogni discorso scientifico usa una sua terminologia che è parziale. E allora non possiamo, ecco qui la critica Burioni, non possiamo far nostra un'immagine della scienza di tipo vecchio, superata, positivista. Ma d'altra parte non possiamo neanche far nostra un'immagine sofistica della conoscenza, perché la conoscenza abbiamo visto un nucleo duro. E allora che posizione dobbiamo assumere? Una posizione saggiamento intermedia, che dice ogni conoscenza scientifica si basa sull'approfondimento di una realtà che viene studiata da un certo punto di vista e questa possibilità è una possibilità sempre aperta. Questa è la forza della scienza. Perché? Perché il cuore della scienza, come abbiamo capito Popper, è la criticità. Se noi eviriamo la scienza, le togliamo la criticità, è più facile insegnarla. Ma facciamo un danno alla società e quindi al nostro futuro. Grazie. Grazie professore. Faccio anche io un esempio divertente per quanto riguarda la cosiddetta ricerca pura. Ho avuto la fortuna di lavorare per divulgare le loro posizioni con gli inventori del laser, tra cui c'è un italiano, il professore Orazio Svelto, i quali mi raccontavano che all'inizio erano tutti contentissimi perché sapevano di aver fatto una grande scoperta, cioè la compressione e la capacità di indirizzare in maniera nettissima la luce, ma non sapevano assolutamente che cosa farne e a che cosa servisse. Cioè sapevano che era una cosa strapitosa, come poi si è potuto vedere sia nell'applicazione per la lettura ottica sia nell'applicazione per esempio medico-chirurgica, ma loro quando l'hanno scoperta hanno detto che meraviglia, abbiamo fatto una scoperta enorme, non sappiamo a che serve. Quindi devo dire che anche qui ci siamo.